In questo intervento chiedo di ultimare e alzare le scogliere davanti ai Bagnalda e tutto il tratto di Ponte Sasso. Manca un progetto, quindi chiedo all'amministrazione comunale di Fano, che già più volte è stata sollecitata su questo tema, di progettare interamente il litorale fanese, vista la disponibilità della regione Marche di investire quasi 4 milioni di euro tra Fano e Mondolfo e credo che sia fondamentale e non più rinviabile far sì che il Comune di Fano si doti di un progetto da poter far rientrare all'interno di questi 4 milioni di euro. Le scorse mareggiate, che sono solamente una delle tante cartoline che abbiamo visto in questi anni, devono far riflettere all'amministrazione comunale e non far perdere questo importante treno che la regione mette a disposizione.